Angelo Laleva di Assabloid, ti chiedo perché Assabloid ha sostenuto il premio sostenibilità del pubblico in questa edizione 2019 del premio sostenibilità? Assabloid Entral System crede molto nel concetto di sostenibilità, pubblicizzando la sostenibilità possiamo entrare in contatto con la progettazione e quindi andare a lavorare su quelli che sono i driver importanti per gli edifici sostenibili, sempre più c'è attenzione al risparmio energetico, ai costi e progettare un ingresso automatico può essere un vantaggio dal punto di vista del risparmio energetico e quindi della sostenibilità. Quali soluzioni propone la vostra azienda per la progettazione e per le soluzioni sostenibili? La divisione Entral System di Assabloid fa parte appunto della multinazionale Assabloid, nello specifico si occupa di ingressi automatici a 360 gradi, quindi sia le porte pedonali, quindi porte automatici scorrevoli, girevoli, abbattente, che tutto quello che è invece il mondo dell'industriale, quindi i portoni sezionali, le porte rapide, le baie di carico, quindi tutto quello che di automatico ci può essere negli ingressi. Grazie a tutti!